Giulia, sai cosa sono i Piranei? Sì, è il nome del mare vicino alla Francia. No, è una catena montuosa che fa la linea del confine tra la Francia e la Spagna. Sono alti fino a 1700 metri. Che cos'è la Mancia? La Mancia è una zona polverosa e piena di rocce e calcare. Ah! Sai chi era Don Quixote? Sì, era una persona anziana. Giusto, ma io ci giungerei che era un poeta. Già, un grande poeta. Sai la vecchia storia su un gentil'uomo ricordato anche nel ventunesimo secolo? No, me la puoi dire? Sì, perché no? Un giorno arrivò un uomo che aveva 50 anni, di complessione robusto, molto magro, anche il suo viso e amava la caccia. Cosa mangiava? Dolcetti, vero? Ma no! Invece di mangiare mucca, agnello, asino e cavallo, mangiava le avanze della sera prima, insalata, lenticchie di venerdì. Di sabato e domenica non mangiava? Non aveva fame? Sì che aveva fame. Sabato mangiava un gingillo e domenica piccioncino.